Un errore di trascrizione, un falso allarme. La Toscana avrà oltre 90.000 dosi di vaccino anti-covid, non poco più di 51.000. Perché era questo il numero apparso sulle slide durante la videoreunione di lunedì in conferenza Stato-Regioni, con cui il commissario Domenico Arcuri aveva presentato ai governatori il piano per la distribuzione dei vaccini in Italia. Quel numero, che avrebbe di fatto dimezzato le previsioni della Regione sulla prima tranche prevista per fine gennaio, è stato cancellato e corretto. Fra Regione, Ministero della Salute e Struttura del Commissario era partito un riconteggio. La conferma è arrivata dal Ministero che ha colto la richiesta della Toscana. Se fosse rimasta invariata la cifra iniziale di 51.000 dosi, la Regione non sarebbe riuscita neppure a coprire il fabbisogno di tutto il personale sanitario. Ora, con oltre 90.000 vaccini, sarà coperto non solo il fabbisogno per il personale, ma anche quello degli operatori e per gli anziani ospiti dell'RSA, i primi destinatari del farmaco. Destinatari delle dosi non saranno più 11, ma 12 ospedali. A quelli provinciali dovrebbe aggiungersi anche l'ospedale di Empoli. Intanto si sa per certo che i vaccini di Pfizer non verranno smistati all'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, ma destinati direttamente agli ospedali, proprio per le particolari condizioni di conservazione previste dal tipo di vaccino. La Toscana intanto ha già avviato l'acquisto di 100 ultracongelatori dove costudire il vaccino a meno 80 gradi e che in seguito ospiteranno anche le dosi di altre case farmaceutiche, la cui conservazione però potrà avvenire a temperature più vicine allo zero. I vaccini di Pfizer saranno però i primi e costringeranno gli ospedali anche a organizzare lo sporzionamento, poiché saranno consegnati in fiali da 5 dosi. Un quantitativo più importante potrebbe arrivare fra metà marzo e aprile. In quella fase dovrebbero essere coperti gli over 60, le persone con patologie pregresse o immunodeficienza, i gruppi sociali a maggior rischio di morte, gli insegnanti e il personale scolastico. Nel terzo trimestre del 2021 toccherà lavoratori dei servizi essenziali, carceri e altri soggetti con altre patologie meno gravi. Solo dal quarto trimestre del 2021 si completerà la vaccinazione con l'obiettivo di raggiungere l'80-90% della copertura.